Con il centrale della squadra del presidente Sirci, Marco Podraskanin, che in diretta dagli studi di Tafciani ha analizzato il momento della squadra a tre giornate dal termine della regular season e mettendo in guardia il prossimo avversario della squadra della Sir. Vediamo. Si lavora intensamente al Palabarton di Perugia in vista delle ultime tre partite della regular season, al termine della quale sarà delineata la griglia play-off. Sul calmino della Sir restano ancora due partite casalinghe e un'ostica trasferta a Milano in casa della Revivre che si è guadagnata la quarta posizione in classifica in coabitazione con Modena. Ma se la filosofia è quella di pensare solo ed esclusivamente a una partita alla volta, occhi puntati sul prossimo avversario, la Chioene Padova di coach Baldovin, reduce da una rotonda vittoria per 3-0 su Verona che ha garantito l'accesso matematico ai play-off e desiderosa dunque di dare continuità al risultato positivo con il quale la squadra si è prontamente riscattata dal K.O. di domenica precedente per mano di Trento. Dall'altra parte Perugia ha un motivo in più per dare il massimo. Padova è infatti una delle poche squadre che è riuscita a battere i Block Devils in questa stagione dei record. Mancano solo tre partite, noi stiamo preparando già la partita contro Padova che è sabato prossimo. e niente, mi ricordo che abbiamo perso uno di poche partite che abbiamo perso questo anno e era contro Padova quindi sicuramente abbiamo un motivo in più di dimostrare che siamo una squadra di alto livello e che vogliamo vincere altri tre punti portati.